Il valore del Vermentino e soprattutto di questa cantina anche per valorizzare questo vino e questo vitigno? Beh, questo è un aureale sicuramente privilegiato per la produzione del Vermentino. Questa cantina è una cantina che mi sta nel cuore perché io ho iniziato i primi passi nel 1980, proprio in provincia di Spezia, e questa cantina era una cantina che all'epoca già lasciava intravedere un profilo di evoluzione di grande interesse e di grande peculiarità. Quindi ritrovarmi qui dopo 40 anni abbondanti a celebrare il lustro di questa azienda, certamente è una bella esperienza, una bella circostanza. Come è cresciuto anche questo vitigno nelle sue produzioni? Come sta andando? Quali sono le aspettative per l'annata di quest'anno? Allora, possiamo dire questo, che ogni territorio ha bisogno di un leader, ha bisogno di qualcuno che faciliti l'evoluzione anche della parte commerciale. Cantina e Luna è stata sicuramente l'interprete fedele di questo areale che ciò nonostante ha consentito anche di altre piccole aziende di emergere e di evolvere. Quindi un sistema produttivo virtuoso in cui la grande azienda si mette a disposizione dei piccoli produttori. Grazie. Grazie. Grazie.